Va in cartolibreria per ritirare i libri di sua figlia che dovrà frequentare la terza elementare e non le vengono consegnati. Signora, i libri sono arrivati ma non ve li posso consegnare perché il comune non li ha pagati. E' stata questa la risposta ad una mamma e ad altre che in questi giorni si sono recate presso le cartolibrerie della città per ritirare i testi scolastici per gli alunni frequentanti le scuole elementari. Lo fa sapere pubblicamente sui social in un post una mamma della città di Agropoli che racconta come sono andati i fatti. Il post però è stato velocemente eletto da tanti utenti di Facebook e non sono mancate le polemiche. Immediata però la nota stampa del comune agropolese che ha precisato quanto segue. In merito ad alcune polemiche sollevate sui social, inerenti alla fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo, si precisa che le pratiche sono avviate da tempo e prossime a concludersi. In concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico tutti gli aventi diritto potranno avere la disponibilità dei testi. Spiace solo che in ogni occasione, conclude il primo cittadino Adamo Coppola, si colga qualsiasi spunto per fare sterili e inutili polemiche. Ad intervenire sulla questione oltre al sindaco è stato anche l'assessore al bilancio Roberto Mutalipassi. Mi corre l'obbligo di intervenire sulla questione sollevata in data odierna attraverso i social da alcune mamme che recatosi in cartolibreria per ritirare i libri delle scuole elementari, si sono sentite dire «signora, i libri non glieli posso consegnare perché il comune non li ha pagati». Nel premettere che il comune negli anni scorsi ha sempre regolarmente pagato ad ogni cartolibreria l'importo dei libri consegnati dalle stesse ai genitori entro massimo 30 giorni dall'emissione della rendicontazione, come precisato dal funzionario responsabile dell'ente, il comune non può procedere alla liquidazione se non dopo aver avuto dalle cartolibrerie apposita rendicontazione che dimostri l'effettiva consegna dei libri.